Una storia, un racconto scritto da Valentina, su Marzotti, alla Piedoria Naturalaria, a Milano, finisce comunque. Sì, mi ha appena raccontato Valentina, perché appunto il libro io l'ho visto tanto adesso, che la persona a cui ho dedicato questo articolo, questo pezzo, è una persona che l'ha convinta per vivere, e che l'ha fatta appassionare anche alla poesia, perché lei non ama la poesia. Mi ha dedicato, pur non conoscendola, a una poesia, alla madre di Valentina, perché io cerco di leggere, non faccio questo mestiere, la leggo volentieri. Adoro quando la tua pelle riflette il primo sole nel tepore di aprile, mentre stegni nella brezza con gesti armonici, panni che danza un leggero, sei una musa che recita e danza l'erba che ti accoglie, gli alberi attorno e intorno hanno cori, il cielo azzurro ti bacia, mentre il vento leggero fa murinare polvere d'oro, fulminare di casa, dietro di te, dietro di te, dove sono rimasta per anni immobile, fulminando la verità di un mondo perfetto che ti ha presa con sé in quell'attimo. Una poesia...